Ciao a tutti voi amici visionari, la mia vacanza purtroppo agli sgoccioli, oggi sgocciola anche il tempo, piovigina e allora trovo qualche minuto per parlarvi di Breaking News in Yuba County, film Sky Original che ho visto ovviamente su Sky e che ho recensito con una mini recensione visual. Vi dico che a me sinceramente è piaciuto, ho visto delle recensioni in giro che dicono belli gli spunti però purtroppo c'è poca ciccia, in realtà io me lo sono goduto, forse perché sono in vacanza, non lo so, una commedia nera e al centro di questa storia c'è una donna che cerca attenzioni, diciamo così, che è un po' bistrattata da tutti ed è un po' se vogliamo la vendetta di questa donna, aiutata anche dal caso, aiutata molto dal caso ma è anche una riflessione sull'importanza e sulla centralità delle news nell'informazione ai nostri tempi la deformazione al fatto che diventi uno spettacolo, che si dia tanto spazio alle illazioni, alle teorie, ai complotti e si guardi poco la sostanza. Io sinceramente ve lo consiglio. Ciao ciao!